Concorrere con tutti i locali che propongono l'aperitivo in Italia e vincere sicuramente è emozionante, il cuore batte anche se di professione oltre a gestire il locale faccio l'attore, quindi sono abituato a salire sul pad, però l'emozione c'è sicuramente, anche perché l'atmosfera è fantastica questa sera. È sicuramente un ringraziamento e sicuramente per loro il fatto che Osteria Barabba ha sempre idee da macinare per loro alla fine.